Grazie a voi, intanto ringrazio Alessandro Marzomagno per aver accettato di aprire questa serie di conferenze sulla storia dell'alimentazione e del cibo e sono molto felice di averlo perché è un vecchio amico ancora di gioventù e penso che molti di voi lo conosceranno, comunque vi do una breve presentazione, è un giornalista e scrittore con una base da storico, una formazione da storico che ha fatto a lungo il giornalista come responsabile redattore per la rivista Il Diario, responsabile degli esteri, seguendo anche le guerre dei Balcani negli anni 90 del secolo scorso. Come autore è molto prolifico, ha scritto moltissimo, 16 libri, alcuni tradotti in inglese, cinese, giapponese, coreano, spagnolo, diciamo vorrei ricordare proprio legato al tema di oggi nel 2015, è arrivato in finale al premio Bancarella della cucina con il libro Il Genio del Gusto, come il mangiare italiano ha conquistato il mondo e è stato selezionato anche per altri premi. Ha scritto molto su Venezia, quindi tra i libri più conosciuti c'è L'alba dei libri, quando Venezia ha fatto leggere il mondo nel 2012 e ha scritto su Serenissime, le donne illustre di Venezia dal medioevo a oggi, La splendida Venezia 1499-1509, apparso per l'editore La Terza nel 2019, recentemente 2020, l'inventore di libri Aldo Manuzio Venezia e il suo tempo, ha partecipato a traduzione anche sul Cibo in televisione e so che uscirà a breve, brevissimo, ad aprile, la sua ultima fatica, un libro sulla storia di Venezia in generale che magari, Alessandro, se vuoi dire tu il titolo e parlare un secondo, direi che lascio la parola. Oggi ci parlerà il titolo e la bufara nel piatto, le fake news che hanno a che fare col cibo, siamo tutti molto curiosi di sentire Alessandro. Rifaccio, grazie a tutti e a tutti e grazie agli organizzatori per l'invito, mi fa molto piacere. Sì, dunque, il titolo del prossimo libro sarà molto, è molto semplice, si intenderà Venezia, quindi Venezia, una storia di terra e di mare, uscirà con la terza il 7 aprile ed è la storia di Venezia, dalle origini dei giorni nostri, con dei caratteri particolari, ma insomma adesso non ve lo sto a spiegare. Sarà presentato l'11 aprile ad Ateneo Veneto, per cui se qualcuno vuole, farà molto piacere vederlo lì. Dunque, invece questa sera, visto che si appunto parliamo di cibo, di alimentazione, di tradizioni gastronomiche, ho pensato di parlare del tema delle bufale, delle fake news, che è anche un tema divertente, così anche possiamo magari sghignazzare un pochino per tutto quello che è stato raccontato nel corso dei secoli, anche perché alcune di queste bufale in realtà hanno origini antiche, non sono solo dei nostri tempi. La considerazione di base è che un po' occupandosi di storia, un po' in tutta la storia si vengono a scoprire tradizioni non vere, invenzioni, leggende, a cominciare dalla nascita di Venezia il 25 marzo del 421, che è una bufala assoluta, ma la quantità di bufale che c'è nella storia dell'alimentazione è enorme. Non c'è quasi nulla di quello che noi raccontiamo, di quello che noi diciamo sulle tradizioni, sui piatti e sulla storia che sia vero. Ecco, qui è più complicato nella storia della cucina ritrovare storie reali rispetto a quelle inventate. Tra l'altro anche perché molto spesso le storie inventate sono più divertenti di quelle vere, no? Spesso la verità è banale e invece le leggende sono molto più belle, sono più divertenti, sono infiorettate e quindi ci si diverte a raccontarle, che va benissimo perché poi fanno parte della tradizione anche le leggende, basta riconoscere che siano leggende, no? Io per esempio mi batto strenuamente contro la leggenda che il ferro della gondola, che i sei denti del ferro della gondola rappresentino i sei sestieri di Venezia, che non è vero assolutamente nulla, anche perché ci sono fotografie di ferri con quattro o cinque denti, ma non riesco a cavare un ragno dal buco, perché è molto più divertente raccontare che i sei denti rappresentino i sei sestieri. Bene, allora volevo cominciare un po' con un argomento molto realtino che è quello delle spezie e quindi le spezie che comunemente vengono indicate come delle sostanze utilizzate nel passato per coprire i cattivi odori del cibo andato a male, no? Questo l'avrete sentito immagino centinaia di volte perché si continua a raccontare. Ecco, e non è vero, non è vero perché le spezie erano una componente costosissima e quindi chi aveva denaro abbastanza per garantirsi per comprare le spezie aveva anche denaro abbastanza per garantirsi il cibo fresco. Il cibo fresco significava nel caso della carne animali vivi che venivano macellati alla bisogna e quindi erano assolutamente freschissimi. Chi non aveva denaro per garantirsi il cibo fresco tantomeno aveva denaro per potersi comprare le spezie. E quindi i cibi andati a male, guasti, cattivi che venivano consumati, venivano consumati dal popolo ma tendenzialmente se si cercava di coprire negli odori li si coprivano con l'aglio e la cipolla che insomma comunque sono in grado di far diventare mangiabili anche cibi che invece mangiabili non sono. Le spezie erano utilizzate soprattutto per la loro valenza sociale, non tanto perché davano gusto quanto perché esprimevano lo status di chi queste spezie poteva permettersi e poteva utilizzare. La più significativa non è nemmeno una spezia perché in realtà il pistillo di un fiore è uno zafferano, al tempo comunque venivano considerate tutte spezie a prescindere e lo zafferano è particolarmente significativo perché è giallo e quindi riproduceva il colore dell'oro. Nel Rinascimento, tardo o medioevo Rinascimento, non era concepibile mangiare qualcosa così come si presentava. Tutto veniva modificato. L'ideale della cucina rinascimentale era l'amalgama, per cui tutto veniva pestato nel mortaio. Il mortaio era l'attrezzo da cucina più diffuso, passato al setaccio, mescolato e spesso colorato. Il colore più prezioso era quello dell'oro. I molto ricchi, i ricchissimi, si potevano permettere di utilizzare la foglia d'oro e quindi sappiamo che alcune preparazioni con i cibi venivano coperti di foglia d'oro. C'è anche una ricetta di Bartolomeo Platina nel primo libro a stampa di cucina De Onesta Voluptate et Valitudine della metà del Quattrocento che è in 1470 dove si parla appunto di un pavone dorato ricoperto di foglia d'oro e poi a sua volta sopra la doratura messa alla pelle con tutto il piumaggio e portato in tavola tra la sorpresa di tutti i convitati. Ma anche il pane d'oro, il pandoro, il nome pandoro ci ricorda il fatto che anche il pane poteva essere foderato di foglia d'oro e abbiamo anche in questo caso delle testimonianze che ci parlano di questi pani dorati, di questi pani d'oro da cui poi deriva il nome pandoro. Lo zafferano è un suffrogato sempre costoso ma ovviamente meno costoso dell'oro e che dava il colore giallo. Infatti insomma oggi è rimasto nel risotto la milanese che è questo piatto giallo e che in qualche modo doveva richiamare l'oro. Quando Gualtiero Marchesi ha messo una foglia d'oro sul risotto la milanese non ha fatto altro che riprendere una tradizione rinascimentale anche se lui, devo dire la verità, che non lo sapeva perché gliene avevo parlato personalmente e appunto mi aveva detto che non era a conoscenza di questa tradizione. Ma su tutti i piatti venivano sparse spezie e zucchero anche perché anche lo zucchero era un altro elemento molto molto costoso c'era anche un proverbio zucchero non guasta mai minestra e l'ottanta per cento delle ricette rinascimentali che ci sono giunte prevede l'utilizzo delle spezie con un amalgama di base che era formato da cinque elementi da cinque spezie che si metteva un po' dappertutto che erano, adesso vediamo perché me ne dimentico se vede una per strada comunque erano zenzero, pepe, cannella, chiodi di garofano e noce moscata, sono cinque quindi venivano mescolate queste cinque spezie e utilizzate un po' dappertutto poi eventualmente anche con l'aggiunta di altre spezie ovviamente era preferibile non scendere al di sotto di queste cinque spezie a base tra l'altro se volete provare così un brivido rinascimentale vi posso consigliare di mangiare la pasta come si mangiava prima dell'utilizzo del sugo di pomodoro che è molto recente perché la prima ricetta di pasta al pomodoro è nel 1837 in precedenza la pasta si mangiava condita col burro il formaggio grattugiato e spezie quindi provate a farvi pasta al burro col formaggio grattugiato darci una grattatina di noce moscata e sentirete quanto è buona l'abbandono delle spezie avviene verso la metà del 600 a opera soprattutto dei francesi ecco questo forse non l'ho detto nel 500 che è il secolo in cui l'utilizzo delle spezie è esaltato al massimo a chi dava il là alla cucina erano gli italiani il 500 è il secolo della cucina italiana i principali titoli di libri di gastronomia di ricettario del 500 sono tutti opera di italiani e i francesi li traducevano e utilizzavano gli ingredienti che trovavano comincia un pochino il pepe a scendere di prezzo durante la seconda metà del 500 durante il 600 quindi a non essere più una spezia così preziosa come invece poteva essere per esempio la noce moscata che era molto cara e quindi nella corte di Francia dove ovviamente era la distinzione era il primo elemento l'elemento a cui si teneva di più quando anche queste spezie cominciano a essere utilizzate dai borghesi e allora le si guarda male e si pensa a sostituirle e vengono sostituite con uno strano e forse ai nostri occhi potrebbe sembrare addirittura il naturale abbraccio tra l'alta aristocrazia e il popolo perché le spezie vengono messe da parte in quanto diventano una caratteristica della cucina borghese e si cominciano a usare le droghe e cioè l'erba cipollina lo scalogno, i funghi, i capperi, le acciughe e anche questo ci smentisce il fatto altra fake news, altra leggenda raccontata che le droghe fossero lo spezia dei poveri no, le droghe si sono cominciate a usare nella corte francese e quindi come elemento di altissima distinzione e qui anche qui abbiamo un libro che è il libro base della cucina francese che è del 1651 François de la Varenne Le Cuisinière François che prevede l'utilizzo di droghe al posto delle spezie e anche cambia completamente l'utilizzo delle salse alle salse a base acida che erano proprie della cucina italiana cioè a base di limone, aceto e agresto vengono sostituite le salse a base grassa cioè a base di olio e burro la salsa a base grassa più famosa la conosciamo tutti alla bechamel che è anche qui altra leggenda non è stata inventata da Louis de Bechamel ma semplicemente è stata dedicata a Louis de Bechamel e quindi ha preso questo nome da bechamel ed è una salsa semplicissima alla fine perché è burro, farina e latte e quindi comunque è una salsa a base grassa che ha avuto un certo successo visto che la utilizziamo ancora oggi e ovviamente in Italia queste novità arrivano più tardi perché l'Italia faceva resistenza rispetto alla Francia che innova in quegli anni innova la cucina e quindi abbiamo la prima il primo indizio di una diminuzione dell'uso delle spezie è il libro di Bartolomeu L'arte di ben cucinare del 1662 dove si capisce che si devono usare meno spezie viene introdotto viene introdotta l'acciuga come elemento di base della salsa e noi a Venezia questa è una tradizione che ci è rimasta perché i bigoli in salsa sappiamo benissimo che sono fatti con l'acciuga e non con la salsa di pomodoro ed è appunto un'eredità di questa novità che è stata introdotta a metà del Seicento tra l'altro, tra parentesi sempre per rimanere in temi veneziani Bartolomeu Stefani era il cuoco dei Gonzaga era il cuoco della corte di Mantova ma è anche il suo libro L'arte di ben cucinare è il libro dove per la prima volta compare la ricetta dello zabaione dello zambalione come lo chiamava lui che è una ricetta simile a quella che utilizziamo ancora oggi per appunto per fare lo zabaione e sembra che il nome fosse di origine dalmata che venisse da Zabaia e che quindi sia ovviamente transitato transitato per Venezia e dopodiché l'altra il libro successivo è Antonio Latini lo scalco alla moderna 1694 dove proprio viene esplicitamente detto di utilizzare meno spezie e quindi insomma anche la cucina italiana si affranca dall'utilizzo intenso di queste spezie una cosa invece tornando indietro del tempo ma mi sembra anche questa interessante da dire 1574 quindi siamo negli anni di massimo utilizzo delle spezie quando Enrico III di Valois transitando da Venezia mentre fugge dalla Polonia per andare poi a occupare il trono di Francia diventare Enrico III di Francia quello poi di Parigi val bene una messa passa per Venezia si intrattiene con Veronica Franco insomma questo è assodato e Veronica Franco era la cortigiana più illustra di Venezia e una leggenda racconta che anche questa la si sente dire molto spesso che per i veneziani per sfoggio di ricchezza per impressionare il re di Francia bruciano fasci di cannella nel caminetto e che sia una leggenda direi che è abbastanza comprovato dal fatto che era luglio e per cui conosciamo bene come sia il clima a Venezia di luglio penso che accendere un fuoco e la camera del re alla fine di luglio sarebbe stato fargli un dispetto terrificante e quindi non credo proprio che sia vero diciamo che i veneziani avrebbero potuto bruciare cannella per impressionare qualche ospite illustra non era lontano dalla loro mentalità ma dubito fortemente che sia stato fatto alla fine di luglio altra leggenda che comunque in qualche modo coinvolge Venezia insomma perlomeno uno dei suoi figli più illustri è quella che Marco Polo abbia portato gli spaghetti dalla Cina adesso si racconta un po' meno perché insomma ormai ne sappiamo di più è stata un pochino abbandonata questa storia ma era una storia che fino a molti anni fa si raccontava normalmente si diceva proprio che fosse stato fosse stato Marco Polo nel viaggio di ritorno dalla Cina a portare questo alimento che sicuramente in Cina c'era già questo lo sappiamo gli spaghetti cinesi hanno origini precedenti agli spaghetti che mangiamo in Italia che poi ci arrivano dal Medio Oriente ma che questa cosa di Marco Polo fosse un'assoluta bufala ci viene dalle testimonianze storiche perché la prima testimonianza di una pasta lunga chiamata Tria cioè una pasta filiforme è in Sicilia a metà del XII secolo quando a Trabia vicino a Palermo c'erano degli impianti dove venivano fatti questi spaghettini questi Tria e addirittura in quantità tali che poi venivano esportati e infatti non è affatto un caso che la pasta si sia mossa dalla Sicilia era arrivata lì perché l'avevano portata gli arabi si sia mossa dalla Sicilia e si è approdata in Liguria infatti la seconda testimonianza sicura di pasta in particolar modo della parola maccheroni è genovese e siamo invece nel secolo successivo quindi siamo nel 200 quando un notaio in un inventario a casa di un poveretto che era defunto annota anche una barisela plena di maccheroni e quindi siamo siamo attorno al 1870 per cui 20 anni prima che Marco Polo andasse in Cina tra l'altro sempre per rimanere per ristabilire verità verità storiche per quanto riguarda l'alimentazione i maccheroni erano dei gnocchi non avevano il buco erano dei gnocchi dei gnocchi pieni ovviamente nel 200 nel 1270 questi gnocchi non erano fatti con le patate erano fatti di farina erano gnocchi di farina e dopodiché quando questi gnocchi di farina si è cominciati a avvolgerli intorno a un ferro non farlo da calza così e poi hanno cominciato ad avere il buco e quindi sono diventati il maccherone col buco come lo conosciamo noi oggi tra l'altro anche gli spaghetti ritorno a quanto stavo dicendo prima il nome spaghetti è abbastanza recente perché seppur conosciuto non era non era utilizzato perché il nome il nome con cui venivano chiamati era vermicelli il cambio di nome è avvenuto nell'ottocento quando si sono cominciati a esportare in America in grande spaghetti in grande quantità ovviamente chiamare questa pasta lunga Little Worms sarebbe stata una cattiva operazione di marketing e per cui si è cominciato a utilizzare l'altro nome cioè anziché chiamare i vermicelli si sono cominciati a chiamare intensamente spaghetti che era un nome molto più utilizzabile e palatabile palatabile in America il primo il primo ricettario dove viene intensamente usato il nome spaghetti è proprio l'artusi in 1891 dove non compare più la parola vermicelli ma compare compare la parola spaghetti tra l'altro è sempre interessante sapere sempre riguardante riguardante l'America che la pasta all'uovo portata dai tedeschi e la pasta invece di semola portata dagli italiani erano considerati due alimenti completamente diversi e nemmeno parenti fra loro infatti hanno conservato nomi diversi perché la pasta all'uovo in inglese si chiama noodle che viene dal tedesco noodle che sono esattamente i capelli che chiunque sia stato in Austria in Germania avrà mangiato una zuppa un brodo con dentro i noodle sono i nostri i nostri capelli d'angelo all'uovo ecco e che siccome arrivavano da due posti diversi erano considerati due alimenti completamente diversi dagli americani ma torniamo a Marco Polo ecco la appunto il fatto che abbia portato gli spaghetti dalla Cina è assolutamente una leggenda ma è anche divertente sapere come questa leggenda sia nata perché spesso le leggende si affondano le loro radici nei secoli per cui non abbiamo idea delle origini invece in questo caso l'origine è molto precisa ha anche una data l'ottobre 1929 quando in un giornale americano che era l'organo dei produttori di pasta degli Stati Uniti che aveva il significativo nome di The Macaroni Journal compare tra l'altro produttori che erano tutti di origine italiana come potete facilmente immaginare ecco compare un articolo senza firma quindi non sappiamo che sia il colpevole in cui si racconta la storia del ritorno di Marco Polo dalla Cina a Venezia e quindi si racconta che Marco Polo sarebbe tornato via mare quella via mare era una rotta abbastanza comunemente usata era una delle tante una delle tante vie della seta c'erano vie della seta terrestre ma esisteva anche una via della seta marittima che passava appunto costeggiando l'India e poi verso fino al Mar Rosso e poi via terra per i Mediterranei ecco allora si racconta che questa flottiglia al comando di Marco Polo si così prende la strada la strada di casa la strada dell'Europa a un certo punto quando stavano ancora in Cina e hanno necessità di fare acqua e questo era anche questa era una cosa molto normale perché era le navi al tempo venivano dovevano spesso fermarsi per rifornirsi di acqua di acqua potabile e quindi un gruppo di marinai scende a terra si spargono e un marinaio insieme a alcuni suoi colleghi un marinaio che si chiamava guardate un po' spaghetto si ferma in un villaggio della Cina e vede questi cinesi che mangiano spaghetti dice oi boh ma che roba buona e per cui spaghetto porta questa pasta a bordo della della nave ma poi ha qualche problema perché non sapeva bene come cucinarla per cui provano con l'acqua dolce e anche questo non può che essere una clamorosa bufala perché figuriamoci con la poca acqua dolce che c'era a bordo delle navi si potevano permettersi di sprecarla per cucinare la pasta ma mai più comunque questo articolo del 1929 racconta questa cosa allora prova a cucinare l'acqua dolce ma ovviamente viene fuori una schifezza perché non ci aveva messo il sale e poi colpo di genio cuciniamo nell'acqua di mare per cui tira sull'acqua di mare bolle la pasta nell'acqua di mare che è salata e fantastica che buona questa pasta e tornano tutti felici e contenti con con questa pasta verso verso Venezia e portano la pasta in Europa siamo nel 1929 e nove anni dopo nel 1938 esce un film con Gary Cooper dal titolo in inglese Le avventure di Marco Polo che poi in italiano è stato tradotto con un titolo piuttosto fantadioso uno scozzese alla corte di Gengis Khan e non si capisce bene perché la abbiano modificato in questo modo comunque non ha importanza e a un certo punto viene un pochino riprodotta questa scena Gary Cooper va in un villaggio e vede dei contadini cinesi che mangiano questi spaghetti e gli domanda cos'è quello cosa sono quelli e questo cinese gli risponde ma noi li chiamiamo spaghett e quindi dopo l'articolo e soprattutto dopo il film la leggenda diventa realtà e quindi il fatto che Marco Polo abbia portato gli spaghetti dalla Cina è una insomma una storia che tiene banco per parecchi decenni insomma per parecchi decenni si è continuato a credere a credere questa cosa volevo fare una piccola annotazione se qualcuno ha domande c'è la chat se qualcuno ha domande mi interrompa pure magari le puoi scrivere in chat così io rispondo molto volentieri senza aspettare la fine eccetera eccetera se vi viene in mente qualcosa domandate pure altra leggenda sempre legata agli spaghetti che anche questa la trovo piuttosto divertente è quella sull'origine della carbonara gli spaghetti alla carbonara e qui più che divertente è pericolosa perché se si discute di questo argomento a Roma si rischia di provocare reazioni ferocissime perché probabilmente avrete sentito che la carbonara è un piatto tra degli spaghetti alla carbonara sono un piatto tradizionale romano che secondo insomma di quello che si racconta era era preparato dai carbonai che stavano nelle nelle montagne del tra il Lazio e l'Abruzzo che preparavano questa pasta con quello che avevano cioè un po' di guanciale tenuto insomma tenuto lì qualche l'uovo delle galline un po' di formaggio e preparavano questa pasta non è vero niente non è vero niente non esiste a parte il fatto che i polli le galline erano alimenti molto costosi molto preziosi per cui è molto improbabile anche se non impossibile ovviamente che i carbonari avessero con sé delle galline ma a parte questo discorso non c'è nessuna testimonianza di questa preparazione precedente alla seconda guerra mondiale la prima ricetta conosciuta di la carbonara è stata pubblicata dalla cucina italiana nell'agosto del 1954 ed è una cosa che ha molto poco a che fare con la carbonara che conosciamo noi oggi pensate che il formaggio utilizzato per preparare questa carbonara è gruviera ed era prevista la pancetta perché le dispute tra i romani la pancetta no assolutamente no non deve essere usata la pancetta si deve usare il guanciale perché la ricetta tradizionale prevede il guanciale ecco quando sentite dire ricette tradizionali mettetevi sull'avviso perché nella stragrande maggioranza dei casi la ricetta tradizionale non esiste non c'è nulla di tradizionale e sono tutte tradizioni inventate e molto recenti l'ipotesi più probabile e più accreditata è che la pasta alla carbonara non sia nient'altro che il breakfast degli anglo-americani trasformato in condimento per la pasta eggs and bacon e c'era anche un padre che un cuoco bolognese di nome Renato Walandri che è morto quasi centenario di recente pochi anni fa mi sembra nel 2018 che addirittura aveva raccontato che durante la risalita dell'ottava armata britannica lungo l'Adriatico prestava servizio in un albergo di Riccione e quindi un albergo dove era stato dove era stato installato un comando dell'ottava armata e un generale canadese gli ha fatto avere in cucina eggs and bacon e latte condensato e molto probabilmente perché all'indomani preparasse il breakfast e invece questo cuoco invece di preparare il breakfast ci ha condito la pasta e poi ha detto diceva ci ho aggiunto un po' di formaggio un po' di pepe così per renderla più più appetitosa e insomma ha avuto grande successo e quindi insomma da lì poi si è si è espansa un po' dappertutto oppure i romani che comunque non vogliono rinunciare alla paternità dicono che sono stati gli americani a Roma perché i britannici risalivano l'Italia lungo l'Adriatico e gli americani invece risalivano lungo il terreno quindi sono stati gli americani a Roma a dare questi ingredienti che poi sono stati utilizzati per la carbonara tra l'altro c'è stato anche di recente mi pare l'anno scorso uno spot della barilla dove si riproduceva questa vicenda insomma e quindi la nascita della carbonara in questo modo altre leggende altra leggenda che si racconta molto comunemente e che anche questa in qualche modo coinvolge Venezia è che Caterina dei Medici una volta diventata regina di Francia nel 1547 abbia portato in Francia la qualunque la forchetta il gelato il cibo italiano il buon mangiare i francesi stavano sugli alberi quando noi invece facevamo il corseo su questi racconti qui ma anche questo non è vero ai noi non c'è nessuna prova che Caterina dei Medici abbia si fosse portata cuochi da Firenze anzi è abbastanza certo che i cuochi di corte erano francesi e semplicemente come siamo appunto a metà del Cinquecento come vi accennavo prima utilizzavano i i libri di cucina italiana tradotti perché i maestri della cucina nel Cinquecento erano erano italiani e quindi utilizzavano questi testi e la base della cucina di corte era una era la cucina italiana la forchetta sicuramente non è vero che abbia Caterina dei Medici abbia portato la forchetta a corte forse lei l'avrà usata ma perché sappiamo che suo figlio Enrico Terzo quello che prima abbiamo visto passare per Venezia e trascorrere una notte con con Veronica Franco adotta come testo ufficiale il corteggiano di Baldassar Castiglione che era stato tradotto in francese tra le altre lingue il cortegiano del Castiglione è il grande bestseller del Cinquecento il libro più venduto del Cinquecento tradotto un po' in tutte le lingue e diventa così il testo base della corte di Francia e Enrico Terzo cerca di imporre l'uso della forchetta a corte tra la resistenza dei cortigiani perché la forchetta veniva ritenuta un oggetto poco virile insomma una cosa che potevano usare giusto quegli effemminati degli italiani ma noi francesi veri maschi veri uomini mai più usiamo la forchetta continuiamo a mangiare con le mani ecco questo anche perché scusate poi c'è sempre in tutte le leggende c'è sempre un fondo di vero di logico la forchetta in realtà è una posata inutile cosa da non dire ai bambini quindi la tela che non sentano i tuoi nipoti ma la forchetta non serve a niente perché si può benissimo mangiare con le mani l'unica posata davvero indispensabile è il cucchiaio perché non si può mangiare una minestra non si può mangiare un cibo liquido senza cucchiaio si può bere ma non si può mangiare e se ci pensate i popoli che usano le bacchette cioè cinesi e giapponesi hanno il cucchiaio perché le zuppe le mangiano col cucchiaio non con le bacchette e la forchetta è stata portata da Bisanzio a Venezia da due nobile donne bizantine prima Maria Aghiropulina e poi Teodora Duccas che sposano Teodora Duccas il doge Maria Aghiropulina il nipote del doge il figlio del doge e portano e portano a questo attrezzo in mai visto e appunto anche in questo caso una raffinatezza usata da quegli effemminati dei bizantini e tanto mal vista che poi quando quando Teodora Duccas muore viene così viene viene detto che è morta di tra di una malattia che l'ha fatta che le ha provocato delle delle pustole sulla pelle perché usava la forchetta perché era talmente depravata che usava la forchetta e anche qua si racconta che poi fosse stato San Pier Damiani a scrivere ma San Pier Damiani era già morto per cui era stato qualche altro qualche altro predicatore comunque insomma è vero che la questa forchetta era guardata malissimo e e ci mette molto a essere a diffondersi a essere utilizzata un po' un po' in tutta Europa era l'uso della forchetta poi è legato alla 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 pasta la pasta è un alimento vicido e caldo che quindi con le mani si prende male e oltretutto scotta e quindi è utile la forchetta è utile per mangiarla e infatti la forchetta che la forchetta che viene che arriva da Bisanzio con ogni probabilità aveva due rebbi la forchetta che si usa a Venezia ne ha tre e molti di voi probabilmente hanno presente il servizio San Marco no? che ha una forchetta a tre rebbi nel diciottesimo secolo a Napoli viene aggiunto il quarto il quarto rebbio perché con la forchetta tre rebbi si va male ad avvolgere la pasta lunga se provate a mangiare gli spaghetti con la forchetta del San Marco andate malissimo bisogna avere quattro rebbi perché con i quattro rebbi si va si va molto meglio a girare gli spaghetti a meno che non li mangiate col cucchiaio ma presumo insomma se siete qui ad ascoltarmi abbiate imparato a mangiare gli spaghetti solo con la forchetta e quindi non usiate il cucchiaio e quindi conseguentemente si usano si usa la forchetta la forchetta a quattro a quattro rebbi in Scozia cioè posto dove lì si stavano ancora sugli alberi la forchetta arriva soltanto nel settecento cioè fino al settecento non si usava in Inghilterra la porta Thomas Croillac che questo viaggiatore inglese della fine del cinquecento che pubblica questo libro nel 1608 che crudità in cui racconta di questo suo viaggio in Italia ed è anche la persona che materialmente porta porta questa questo aggeggio sconosciuto in Inghilterra quindi siamo all'inizio del seicento tra la grandissima sorpresa sorpresa degli inglesi addirittura se ci mette svariati secoli per viaggiare geograficamente ci mette la forchetta ci mette ancora di più per viaggiare tra le classi sociali perché in un'inchiesta fatta agli inizi del novecento in provincia di Treviso quindi insomma parliamo di 30-40 km di distanza con Venezia e i contadini raccontavano che non usavano la forchetta che mangiavano con le mani per cui se per viaggiare da Venezia alla Scozia ci mette dal tredicesimo al diciottesimo secolo quindi ci mette cinque secoli per viaggiare dall'aristocrazia alle classi popolari ci mette ancora ci mette addirittura un altro secolo in più perché soltanto poi dopo con dopo la prima guerra mondiale insomma quando avvengono questi grandi rivolgimenti sociali poi la forchetta diventa di uso generalizzato anche tra le classi popolari tra i contadini del del Veneto allora abbiamo detto cucchiaio forchetta un accenno al coltello il coltello era si usava per si usavano dei grandi coltelli da caccia per scannare gli animali per cui comunque si venivano venivano portati a tavola venivano portati a tavola la selvaggina intera tipo avete presente Asterix che porta Obelix che arriva il cinghiale ecco più o meno era una cosa del genere e quindi con i coltelli si scannavano e si facevano a pezzi e poi si mangiavano con le mani ecco quindi l'uso del coltello individuale è molto tardo come anche è tardo l'uso del bicchiere individuale si beveva dallo stesso bicchiere del piatto individuale si mangiava in due tre dallo stesso piatto e quindi insomma l'evoluzione è stata questa altra leggenda sempre legata a Caterina de' Medici e vi avevo accennato prima quello del gelato cioè addirittura non ha data 1553 Caterina de' Medici porta il gelato in Francia peccato che non ci sia lo straccio di una prova addirittura Artusi è andato alla ricerca di questa di testimonianze che potessero soffragare questa data ma dice non mi è riuscito di venirmi a capo cioè non c'è assolutamente nulla che ci provi che Caterina de' Medici abbia portato il gelato in Francia nel 1553 sappiamo e in questo caso invece i documenti ci sono che un italiano di nome Contorso aveva aperto nel 1580 una Glasserie Lemonaderie a Parigi e quindi parlando di Glasserie è possibile che preparasse il gelato che comunque al tempo era ancora sorbetto erano gelati a base a base d'acqua a base acqua e non a base latte gusti frutta non e gusti crema arriva il sorbetto era arrivato così come la pasta in Sicilia dal mondo arabo il nome sorbetto viene dall'arabo al sharbat e e dopo diventa gelato al latte ci sono già delle ricette settecentesche napoletane in cui si parla di sorbetta al latte ma saranno soprattutto i gelatai i gelatai zoldani i gelatai delle montagne del Veneto a utilizzare gli ingredienti che loro conoscevano e che loro avevano quindi uova e latte e quindi si passa dai gusti a base acqua ai gusti a base di latte e quindi dalla frutta alla crema in Francia sicuramente il gelato invece viene preparato nel locale al caffè Procop che viene aperto nel 1686 da un siciliano chiamato Procopio De Coltelli e che molto probabilmente si chiamava Coutot con l'accento sulla O cognome che ancora oggi esiste in Sicilia e così per nobilitarsi e per accrescersi socialmente ha francesizzato Coutot lo ha scritto alla francese perché poi la pronuncia di coltello è sostanzialmente uguale Coutot e quindi si è fatto chiamare con un de nobilitante Procopio De Coltelli probabilmente era semplicemente Procopio Coutot e questo locale esiste ancora oggi il Caffè de Procopio però è diventato un ristorante questo non è più un caffè e questo poi fa sì ceduto il primato al nostro Caffè Florian che è il caffè in attività più antico del mondo ovviamente i francesi dicono di no ma perché dico che è il caffè Procopio ma il caffè Procopio non è più un caffè ecco quindi è un ristorante sicuramente Procopio De Coltelli è stato il il primo a usare delle mantecatrici delle mantecatrici molto molto artigianali fatte insomma delle delle macchine che servivano per girare questo questo composto per mantecarlo per mantenerlo morbido e quindi insomma poi così originare un po' tutta la lavorazione che abbiamo ancora oggi nelle gelaterie che appunto il gelato si ottiene attraverso macchine mantecatrici delle quali l'Italia ha il è leader produttrice nel mondo attraverso la società che probabilmente tutti avete sentito nominare la Carpigiani che è il leader della produzione di macchine da gelato nel mondo ecco vi dicevo appunto che prima la la leggenda di Marco Polo ha una data di nascita e una data di nascita ha anche la leggenda del fatto che la Wiener Schnitzel sarebbe nient'altro che una copiatura della cotoletta alla milanese questa è una fiaba che viene raccontata pensate che la raccontano anche a Vienna ormai perché poi vi spiego il meccanismo ma è diventata di di dominio pubblico un po' in tutta Europa e si racconta che il maresciallo Radeschi avesse mangiato questa buonissima specialità milanese e l'avesse insegnata ai cuochi di corte della Hofburg i quali poi hanno cominciato a riprodurla dando così origine alla Wiener Schnitzel il fatto che sia una balla colossale è provato dal dal particolare che la prima ricetta di Wiener Schnitzel è datata con questo nome ovviamente è datata 1833 in un libro di in un ricettario stampato a Praga in un ricettario in lingua tedesca stampato a Praga Praga era una città di lingua tedesca Kafka pragesi scriveva in tedesco e quindi anche questo ricettario era in lingua tedesca dove viene chiamata la cotoletta impanata viene chiamata Wiener Schnitzel mentre la prima ricetta di cotoletta alla milanese è anzi di costolina per dire per essere precisi è del 1855 quindi in un libro che è posteriore quindi ovviamente non può essere che l'una sia stata copiata dall'altra l'origine di questa bufala devo dire che mi appunto una medaglietta perché ci sono stato dietro insomma l'ho ricostruita con molta perseveranza e attenzione nel 1963 in un libro scritto da quello che viene considerato il primo giornalista gastronomico italiano spesso i giornalisti non sono rigorosi lo dico dal giornalista e quindi questo signore nel 1963 pubblica un libro intitolato La cucina lombarda dove racconta questa storia racconta che appunto tornando a Vienna il maresciallo Radetzky viene ricevuto dall'imperatore e l'imperatore lo manda in cucina a dettare la ricetta ora già questo potete immaginarvi se il capo delle forze armate di un paese in un altro paese dove si sta combattendo va a corte invece di fare una relazione sulla situazione militare viene mandato in cucina a dettare una ricetta mi sembra piuttosto improbabile e però insomma questa cosa viene scritta dopodiché siamo nel 1963 1969 questo Vincenzo Custolo Cunso scusate milanese di origine siciliana viene incaricato dal Turing di curare la nuova edizione della Guida Gastronomica d'Italia del Turing e quando arriva la Lombardia cosa fa Vincenzo Cunso e scrive della Cotoletta della Milanese citando la cucina lombarda ma senza precisare che citante e citato erano la stessa persona e dice come scrive la cucina lombarda due punti virgolette e la storia di Radeschi nel 1972 73 la l'autorevolissima perché è autorevole anche se ci possono essere scritte cose sbagliate l'autorevolissima Guida Gastronomica d'Italia del Turing viene tradotta in tedesco e quindi questa leggenda entra a far parte anche del mondo di lingua tedesca e quindi è successo anche a me quando sono stato a Vienna ma se voi andate a Vienna è possibile che le guide turistiche vi dicano che Vienna capitale di un grande impero multietnico e multinazionale ha preso le sue specialità gastronomiche da varie parti della monarchia e quindi ha preso il goulash da Lungheria che è vero ha preso le palacinche dai Balcani altrettanto vero e la cotoletta da Milano che non è vero e lo prova a sua volta il fatto che goulash e palacinche hanno conservato il loro stesso nome e si chiamano così anche a Vienna mentre la cotoletta si chiama Wiener Schnitzel la cotoletta la milanese ha origini francesi ed è proprio possibile ricostruirne il percorso perché attraverso dei ricettari settecenteschi francesi poi tradotti in italiano c'è la stessa ricetta che è una ricetta di cotoletta impanata prima alla griglia e poi anche fritta che viene passa da Parigi al Piemonte con la cuciniera piemontese la cuciniera piemontese siamo dall'ottocento è la traduzione di un libro di cucina francese settecentesco dopo la cuciniera piemontese viene trasportata a Milano questo libro viene stampato ripubblicato a Milano con delle aggiunte e c'è sempre presente questa ricetta di cotoletta impanata e quindi la ricetta di milanese l'origine della ricetta milanese è questa tra l'altro una ricetta di alto livello perché è fatta con un taglio la costoletta di maiale che è un taglio scusate di maiale di vitello che è un taglio costoso quindi diciamo che è una ricetta borghese alto borghese mentre in Austria era una ricetta popolare in Austria si usava impanare si usa ancora le prime testimonianze di impanatura sono dell'inizio del settecento nel 1719 si impanavano le verdure si impanava il pollo pollo fritto e poi si cominciano a impanare delle fette di coscia di manzo e di vitellone è un taglio ovviamente molto meno prezioso e costoso rispetto alle costolette e quindi insomma non è nient'altro che un ulteriore ingrediente impanato che si aggiunge alle verdure e questo appunto ha testimonianza del fatto che non c'è assolutamente nessun legame tra le due preparazioni sono due preparazioni molto simili sviluppate in luogo diverso un po' come è molto probabile che siano gli spaghetti cinesi e gli spaghetti nostri io vedo che ho già parlato quasi un'ora l'ultima cosa così per rimanere in argomento veneziano il gazzettino scusate il gazzettino il tramezzino c'era un'assonanza il tramezzino che ne ho scritto sul gazzettino il tramezzino dove è nato a Venezia a Torino a Mestre insomma è difficile stabilirlo non si sa con precisione ma sicuramente non è stato inventato come si dice come si racconta da Gabriele D'Annunzio per oppure battezzato da Gabriele D'Annunzio per il caffè Mulassano di Torino il caffè Mulassano a Torino rivendica la paternità del tramezzino e dice che poi negli anni venti insomma era passato D'Annunzio e lo aveva lo aveva battezzato tramezzino e io ho interrogato su questa su questa vicenda la massima autorità d'Annunziana italiana che è Giordano Bruno Guerri che mi ha cortesemente risposto e ha detto ah che in quegli anni D'Annunzio non è mai stato a Torino infatti devo dire che dopo che ho scritto svariate volte questa cosa il caffè Mulassano ha un po' cambiato nel 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 sito non c'è più scritto che è stato D'Annunzio insomma comunque e e e in nessuno scritto D'Annunzio compare la parola tramezzino quindi il fatto che sia un nome D'Annunziano è così è una tradizione inventata è una tradizione inventata la tradizione dice che durante il fascismo e con la necessità di utilizzare di italianizzare i nomi la parola sandwich sarebbe stata tradotta italianizzata con tramezzino devo dire anche che c'è da qualche parte ci trova anche la parola sandwich scritto proprio sandwich così così come si dice però non ha avuto questo successo ha avuto più successo tramezzino non lo sappiamo ecco non lo sappiamo è anche qui la prima l'uscita ufficiale del tramezzino è una pagina della perlomeno quella che sono riuscito a trovare perché poi come sempre nella ricerca storica si possono sempre fare nuove scoperte insomma per il momento ci sono trovato due cose una del 35 un articolo del Corriere della Sera che parla del viaggio inaugurale di una nave di una nave passeggeri dove si mangiavano tramezzini e poi una pagina della cucina italiana del 1936 dove c'è un'intera pagina dedicata ai tramezzini che sono proprio triangolari come li conosciamo noi oggi ma senza alcuna specifica sul luogo d'origine insomma semplicemente così degli intermezzi probabilmente il nome viene da da Entremes dal francese Entremes tramezzo Artusi usa la parola tramezzo è molto divertente leggere l'Artusi per un sacco di motivi tra l'altro anche per le quantità di cibo che venivano che venivano ingurgitate perché se guardate non le ricette ma i menù dei banchetti sono impressionanti perché non c'erano gli antipasti va bene però poi si guadagnavano sul resto in tutti era previsto che ci fosse un primo che ci fosse il pesce dopo il pesce il sorbetto e poi ci doveva sempre essere la trintà della carne cioè arrosto fritto e bollito nello stesso nello stesso pasto per ammazzare il tempo tra una portata e l'altra c'erano gli Entremes chiamati da da Artusi tramessi e questi tramezzi o tramessi erano per noi un pasto unico tipo gnocchi alla romana oppure anche le lasagne ecco pensate voi tra non so il un servizio di carne arrosta e un servizio di carne bollita in mezzo vi portavano una lasagna così tanto per gradire ecco quindi il piccolo tramezzo tramezzo diventa il tramezzino però poi dove sia nato e chi l'abbia inventato eccetera eccetera non si sa non ho più tempo di parlare dello spritz faremo la prossima volta comunque se ci sono domande ovviamente siamo qui molte grazie Alessandro e sì sentiamo un po' le domande vediamo da parte del pubblico cosa un cenno ai cicchetti veneziani lo può fare beh anche questo è una è una tradizione che si 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 perde la notte dei tempi e chi si li ha inventati i cicchetti lo so a me piace pensare ma è una mia idea che siano stati portati a Venezia dagli armeni è una tradizione armena è quella dei mezze che sono esattamente delle piccole cose dei piccoli bocconcini che venivano che vengono tuttora mangiati dagli armeni con l'aperitivo ma dagli armeni poi insomma più in generale anche in tutto il Medio Oriente ma insomma è una tradizione armena e siccome sappiamo che a Venezia c'era un'importantissima comunità armena non a San Lazzaro perché l'isola di San Lazzaro è settecentesca ma nelle mercerie in Cale Fiubera dove c'è anche la chiesetta di Santa Croce degli armeni ecco lì tutto quel blocco quel grande edificio che esiste ancora oggi Cale degli armeni appunto la chiesa di Santa Croce degli armeni era il quartiere armeno di Venezia e quello era medievale perché abbiamo insediamenti armeni già lo sappiamo per certo già dal 200 nel 1512 viene stampato a Venezia il primo libro armeno della storia e gli armeni mangiavano i mezzei poi se i cichetti derivino dai mezzei armeni non lo sappiamo insomma a me piace pensarlo possiamo anche questa dire che è una tradizione inventata altre domande o osservazioni anche contestazioni contestazioni non è vero perché c'è sempre qualcuno quando si parla di questi argomenti c'è sempre qualcuno che viene e dice no ma perché mia nonna faceva così è quella che ho scoperto che esiste anche una terminologia ufficiale che dagli storici di mestiere io non sono un giornalista che scrive libri di storia anche se sono laureato di storia come è stato detto prima gli storici di mestiere proprio categorizzano la storiografia del nonno siccome il mio nonno diceva così allora è così ecco normalmente insomma ci vogliono anche delle prove al suffragio le prove documentali al suffragio di quello che diceva il nonno quindi e c'è un intervento da facebook Stefano Croce che ringrazia Alessandro e chiede se può dire qualcosa sul termine baccaro certo eh no perché non non ne conosco l'origine quindi non posso dire niente cioè sarà è un mio limite perché immagino che esista una un'etimologia ma non non mi è nota mi preparerò così la prossima volta che Stefano Croce me lo domanda non mi coglie impreparato posso chiedere l'origine del detto risi e bisi mangiare da doji eh anche questa è un'altra leggenda che il doje sì che il doje in Giove San Marco mangiasse risi e bisi allora è vero che mangiava risi e bisi ma non risi e bisi no del senso vi spiego in archivio al frarico sono andato a controllare quindi ho visto esistono esistono delle liste dei banchetti dogali di metà settecento non mi ricordo esattamente l'anno ma siamo circa metà settecento e in una di questa lista dei banchetti dogali del giorno di San Marco 25 aprile in una di queste liste è riportata sono riportate 13 terine di riso e 13 terine di bisi anzi no terine di bisi senza il numero terine di bisi quindi è certo che sulla tavola del doge nel giorno di San Marco a metà settecento ci fossero sia i risi sia i bisi ma separati non sotto forma di minestra o di risotto quando poi questa preparazione si sia unita e si sia cominciati a mangiare assieme riso riso e piselli non lo sappiamo i risotti sono sette ottocenteschi abbiamo delle ricette di riso coi quaggette in una commedia di goldoni che è quello è proprio un risotto ma diciamo che insomma la preparazione a risotto del riso a risotto è abbastanza tarda quindi appunto sicuramente questi due alimenti comparivano sulla tavola del doge perché abbiamo una prova abbiamo un documento che ce lo testimonia ma che il doge mangiasse risi e bisi cioè che mangiasse il risotto di piselli per l'italiano è anche questa una leggenda grazie grazie Arturo Rosani Francesca Roberti che vi dica che saranno all'Ateneo Veneto bene mi fa piacere l'11 aprile grazie molto ad Alessandro naturalmente per aver accettato il nostro invito per aver fatto una bellissima vivacissima relazione e naturalmente tutti invitati all'Ateneo Veneto a sentire la presentazione del libro Grazie